Vediamo una prima tipologia di Particle System, dal Command Panel, Geometry, Particle System, clicchiamo su Spray, torniamo in Viewport, clicchiamo in qualsiasi punto e trasciniamo, lasciamo e abbiamo creato il nostro primo emettitore. Quindi massimizziamo la nostra prospettiva, disabilitiamo volendo con la G, la tastiera, la griglia e andiamo a vedere le sue caratteristiche. In questo caso i suoi parametri sono divisi in Particles, Renderer, Timing ed Emitter. Quindi abbiamo queste quattro classi. In queste quattro label, alla voce Particles, troviamo il Viewport Count, che sarebbe la quantità di particelle visiva, cioè quelle che vediamo in Viewport. Vi consiglio, nel caso si lavori con grandi quantità, di abbossarlo in modo tale da poterci muovere all'interno dell'area di lavoro. Il Render Count specifica la quantità di Particles in fase di rendering, quindi quante particelle saranno renderizzate. Il Drop Sides, la dimensione delle Particles in base all'unità di misura utilizzata. In questo caso non abbiamo assolutamente nessuna unità di misura, poiché non l'abbiamo impostata. Ma vi ricordo che si può impostare da Customize, Unit Setup, a System Unit Setup abbiamo la possibilità di scegliere la nostra unità di misura. In questo caso è in Metri, poiché avevo un progetto già aperto in Metri ed è rimasta questa unità di misura. Quindi se tutte le volte che voi aprite un certo progetto, in automatico lui aprirà l'ultima che avete utilizzato. Quindi vi consiglio di stare molto attenti. Ma in questo caso, che è soltanto di esempio, non ha importanza l'unità di misura. Più che altro mi serve per farvi capire che se utilizzate in Metri, naturalmente queste saranno riportate in Metri. Volendo le possiamo anche vedere, quindi visualizzare in modalità di display, quindi in scala metrica e scegliere la tipologia. Oppure scala americana, oppure personalizzata, oppure generica. In questo caso la lasciamo pure generica, poiché stiamo lavorando a livello visuale. Quindi la dimensione delle Particles, in questo caso, alla voce Drop Size, riguarderà l'unità di misura. In questo caso, visto che stiamo lavorando in Metri, sarà 2,2 metri. Lo Speed è la velocità con le quali si sposteranno le particelle nello spazio. Variation è la variazione di velocità, che in questo caso esce anche in direzioni orizzontali e verticali, quindi verso l'esterno del nostro emettitore. Poi abbiamo la possibilità di scegliere come visualizzare le nostre Particles, se in modalità Drops, Dot o Tricks. Solitamente gli animatori, quella che utilizzano di più, è sicuramente la versione a punto, quella a Dots, poiché è molto utilizzata ed è molto facile da gestire. Anche per una questione di leggerezza in fase di viewport. Naturalmente la tipologia di visualizzazione delle particelle, quindi se Drop, Dots o Tricks, non va a incidere sulla tipologia naturalmente del render. Infatti in fase di render possiamo avere il tetraedo oppure la versione Facing. La versione Facing non è nient'altro che una tipologia quadrata della nostra particella, che guarderà sempre e sarà sempre orientata in maniera perpendicolare all'occhio visivo della camera. Quindi in fase della prospettiva sarà sempre perpendicolare alla prospettiva, se non abbiamo comunque delle camere applicate in scena. Il timing, il timing in questo caso va a definire quando inizia l'emissione delle particelle e quando invece finirà, con la voce Life. Life definisce infatti la durata delle particelle. Mentre il Burr Rate, che in questo caso non è attivo, è invece un'emissione che avremo a ogni frame chiave, ogni frame che riguarda il Rate. Vi ricordo che se abbiamo un frame rate impostato a 30 o una tipologia NTSC, ogni 30 frame saranno generate nuove particles. Se invece stiamo lavorando con una scala film, allora sarà ogni 24 frame e così via. Solitamente questo emettitore viene quasi sempre utilizzato in modalità constant. E poi abbiamo l'ultima voce, l'ultimo riquadro, che invece è inerente all'emettitore. Quindi le sue dimensioni, come possiamo vedere in viewport, e se è nascosto oppure no. Questo emettitore ha una linea. Questa linea rappresenta la direzione che prenderanno le nostre particles. Quindi se io adesso mi sposto con il mio time slider sulla mia timeline, vedrò nascere ed emettere quindi delle particelle. Queste particelle che sono in modalità drops, quindi in modalità goccia. Se io scelgo modalità dot, vedrò dei punti. Se io scelgo dei tricks, vedrò delle croci. Letteralmente la traduzione dei tricks sarebbe trucco, quindi è una visualizzazione un po' particolare. Diciamo però visualizzazione a croce. Naturalmente la visualizzazione che abbiamo in viewport non è legata alla visualizzazione che abbiamo in render. Se lanciamo un primo render, avremo una visualizzazione. Ora sono molto molto piccole, quindi possiamo andare a aumentare la loro grandezza. Avremo una visualizzazione a tetraedo, praticamente. Mentre facing, se lancio il render, avremo una visualizzazione a quadrata, che sarà sempre perpendicolare al punto di vista. Questa tipologia qua è sicuramente molto comoda quando vogliamo applicare un materiale con opacità. Vedremo durante questo videocorso come poter utilizzare una tipologia rispetto a un'altra. Grazie a tutti.